Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, segnalati i rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico. L'area di servizio di Badia, Alpino Est, ha il camper service chiuso per un guasto. In A12 fare attenzione per pioggia tra Pisa Centro e l'allacciamento per l'Aurelia. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis, Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!